Dopo aver visto trapelare in rete i dati della certificazione TNA dello Xiaomi Mi 44 GLTE, eccoci H, e oggi lei un, fondatore di Xiaomi, ha confermato ufficialmente la sua esistenza, come già vi aveva. Mo detto, questa versione sarà compatibile con le reti FDDLTE e sarà commercializzata in Cina dal G, e store China Unicom FDDLTE e la sigla che sta ad indicare la compatibilità con le reti 4G, oltre, che WCDMA e GSM, ciò che non è stato comunicato, però, Sono i tempi di commercializzazione di questa, variante, molto attesa soprattutto dal mercato occidentale, una cosa è certa, lo Xiaomi Mi 44 GLTE, è previsto per l'arrivo sul mercato, attendiamo soltanto di sapere quando questo avverrà, che la CON, Ferenza che Xiaomi terrà domani ci sveli, anche, questo.